Gareth Mercer di 32 anni d'età di Warrington nel Shershire aveva confessato alla mamma di avere dei dubbi sulle nostre avventure o meglio prossime con Kylake Sutcliffe di 31 anni d'età sembrava essere molto felice del suo imminente matrimonio però quel sorriso nascondeva in realtà un del dolore terribile e devastante che lo ha spinto a uccidersi non riuscì infatti l'uomo interrompere la dipendenza della cocaina e ciò gli stava rovinando la sua esistenza e il suo rapporto stremato dall'eccessivo stress quindi ha scritto un messaggio di addio alla mamma di 70 anni e poi l'ha fatta finita per sempre una storia tragica quella che ci arriva dal regno unito in cui l'uomo ripeto che Gareth Mercer non ce l'ha fatta o meglio non ha resistito ha deciso di uccidersi e di farla finita per sempre grazie esimi utenti di youtube per il gentile ascolto anche per la gentile visione del presente video iscrivetevi se volete commentate Gareth Mercer riposa in pace e Amen